buongiorno ragazzi oggi mi trovo qui con angelo russello buongiorno a te nino buongiorno a tutti siamo qui per dire che abbiamo finito di registrare un'altra bella canzone scritta dal fratello e mando un bacione un'altra bellissima canzone io quando ascolto queste canzoni devo essere sincero mi rincuoro grazie perché è molto bello trovare ancora in alcuni artisti delle canzoni che comunque sia sappiano di di amore di musica napoletana di amore musica napoletana si perché mancano mancano un po forse per noi nostalgici che amiamo la canzone napoletana quindi meno male che ancora esiste chi scrive questi pezzi e chi li canta diciamo in maniera egregia quindi uno di questi è angelo russello noi oggi non ve lo facciamo sentire e no perché noi diciamo solo che l'abbiamo registrato perché il pezzo è veramente bello secondo me è giusto che lo facciamo sentire quando sarà pronto diciamo il maestro adesso deve lavorare quindi io sono il maestro mi ha detto no 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 maestro lo dico con il cuore davvero perché per me sei un fratello a parte essere un maestro io sono un amico sei un grande amico un grande fratello davvero io vi ringrazio tutti tra l'altro siccome è un pezzo diciamo molto bello possiamo annunciare che metteremo le chitarre suonate da Enea Mario Parise ne ha fatto l'arrangiamento molto bello con una batteria live molto bella grazie 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 a Mario Parise grazie davvero a Nino Marchi a tutta la mia famiglia della Blue Music dico famiglia perché ragazzi questo è il secondo non sono 200 canzoni che ho fatto ma sono il secondo targato a Blue Music di nuovo squadra vincente non si cambia va bene ragazzi allora un bacione a tutti l'unica cosa che vi possiamo dire almeno il titolo ve lo svegliamo vivo e te vive te che bella ragazzi bella bella angelo russello arriva vi voglio bene con la compagnia della mia splendida moglie ecco oggi in dolce compagnia è venuto un lavoro completamente d'amore ciao ciao a tutti buon sabato ci vediamo presto ciao 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 ciao